benvenuti amici del vaso di pandora l'appuntamento mensile con le news e l'osservatorio americano osservatorio dagli stati uniti benvenuto ben ritrovato roberto mazzoni buongiorno a tutti ciao roberto giornalista su questioni politiche economiche e tecnologiche allora noi abbiamo individuato tre argomenti fondamentali essenziali principali in questa per questa rassegna e direi che partiamo subito dalla prima una novità proprio di questi ultimi giorni che sulla scena politica americana è avvenuto direi un fatto clamoroso perché in senato si è arenato il built black better il maxi piano welfare e climatico da quasi duemila miliardi di dollari un piano veramente gigantesco e questo è un fatto clamoroso direi no tra l'altro credo che faccia anche il paio in negativo con le elezioni la clamorosa sconfitta elettorale dei democratici nella nella violenza virginia in virginia agli inizi di novembre che per biden è stato un colpo un colpo durissimo direi no assolutamente sì sicuramente virginia è stato una specie di termometro perché virginia era uno stato che per tanto tempo è stato sotto controllo del partito democratico tra l'altro pur essendo uno stato piccolo è uno degli stati più ricchi negli stati uniti ed è lo stato dove si trova la capitale washington dc dove si trova il pentagono la cia sono tutti lì ok tutti lì ecco esattamente e la cosa significativa è che il candidato per la posizione di governatore in virginia nel termine colif da parte dei democratici era scontato tutti davano il più scontato che avrebbe vinto anche perché è uno che in politica ha 30 anni e fosse il miglior amico di bill clinton aveva l'appoggio di tutti i vari personaggi storici e chiave del partito democratico tra cui si erano esposti di persona no esatto e invece ha vinto glenni ankin il candidato repubblicano che nessuno conosceva ma la cosa più importante che ha vinto con l'apporto significativo di voti presi al partito democratico quindi elettori del partito democratico che in questa elezione di elezione governatoriale hanno deciso di votare per glenni ankin quindi un netto no rispetto alla casa bianca un detto voto di sfiducia nei confronti dell'amministrazione biden questo ha fatto seguito naturalmente una serie di fatti che si sono sviluppati perché ci sono state altre elezioni più piccole meno importanti in texas e in new jersey che hanno dato risultati simili quindi è un segnale che si sta propagando in diversi aree degli stati uniti ma a questo si insomma poi la posizione decisamente difficile di joe biden sul fronte naturalmente degli obblighi vaccinali noi sappiamo che all'inizio dell'anno lui aveva detto che non avrebbe mai imposto a nessuno l'uso del vaccino che incorriggeva tutti a farlo ma che comunque non aveva né intenzione né aveva le possibilità di farlo perché secondo lui non c'erano le condizioni costituzionali o legali per il governo centrale di washington di imporre questo tipo di misura su tutti gli stati uniti poi hanno deciso di cambiare strategia sono partiti con con diverse iniziative tra l'altro attraverso diversi ministeri che puntavano sia le aziende private sia al mondo della sanità sia il mondo dei fornitori del governo federale e sia infine al mondo dell'istruzione tutti questi queste iniziative hanno fatto partire cause contro la casa bianca da parte di un numero notevole di stati per esempio nel caso delle aziende private parliamo di 27 stati quindi più della metà degli stati stati uniti processo è stato riportato alla sesta corte d'appello tramite una procedura di sorteggio e la sosta corte d'appello aveva del sesto circuito aveva tolto la sospensione quindi in pratica l'obbligo vaccinale sarebbe stato confermato e sarebbe stato andrebbe in vigore entro i primi di gennaio entro il 4 di gennaio con poi entro 10 gennaio dovevano le aziende dovevano essere ss conformate ma è stato presentato un appello un contro appello alla corte suprema che ha già indicato che se ne occuperà subito e ha chiesto alla casa bianca di fornire documentazione entro il 30 dicembre in modo da decidere se confermare la sospensione e quindi poi andare a una sentenza definitiva oppure confermare il fatto che la casa bianca possa proseguire con questo obbligo qui stiamo parlando delle aziende private quindi l'obbligo per le aziende degli stati uniti con 100 più dipendenti però mi viene da pensare in italia sarebbe una situazione impensabile che una procura riesca a stoppare l'attività di governo in questo questo tema è impensabile e mi viene in mente quando è stato circa un anno non è mezzo fa per esempio zuckerberg che è stato convocato è stato audito in presso una corte no una corte federale dove ha dovuto ecco rendere scusami l'inciso ma direi che ci stava ci sta ci sta certo per cui vedremo cosa succederà alla corte suprema nel caso in cui la corte suprema decida che il provvedimento deve essere sospeso a quel punto tutta la strategia di obbligo vaccinale crolla perché anche gli altri obblighi seguirebbero la stessa fine e quindi si guarda naturalmente quello che avrà fatto ma il fatto che abbia già dichiarato di progressi non occupare subito vuol dire che è sensibile e che vuole pronunciarsi a riguardo questa situazione dell'obbligo vaccinale che comunque ha creato tanta tensione anche in diversi stati dove ci sono i dove c'è una presenza importante democratici ha indebolito progressivamente la posizione di biden e ha portato al voto negativo di joe manchin che è un senatore del partito democratico che in realtà rappresenta altri senatori ossia quello che emerge anche se non è ufficiale e che ci sono almeno una decina di senatori del partito democratico che non vogliono che questa legge veda la luce fuoco nemico in casa in pratica dentro casa perché stiamo parlando di democratici quindi assolutamente anche perché allora c'è un fatto molto chiaro finora la situazione economica degli stati uniti è stata relativamente sotto controllo sotto trump sicuramente c'è stato un periodo di espansione importante con un crollo naturalmente a seguito dei lockdown e della pandemia e tutto il resto che poi si è ripreso ma in ogni caso abbiamo visto che anche con la grande crisi del 2008 gli americani hanno sì perso una certa potere di acquisto ma in modo molto graduale molto sfumato e le grandi iniezioni di soldi che furono fatte dalla federal reserve dopo il 2008 per rifare e ripartire l'economia in realtà non arrivavano nelle tasche dei cittadini ma finivano nelle riserve delle banche quindi comunque alimentavano il sistema finanziario hanno impedito il sistema finanziario di crollare su stessa hanno in pratica posticipato una morte che era comunque inevitabile ma non hanno influenzato tangibilmente quella che potrebbe essere l'inflazione da quando invece hanno incominciato a mandare assegni direttamente agli americani quindi col concetto del reddito di cittadinanza o qualcosa di simile che è iniziato naturalmente subito dopo la crisi del del 2020 la crisi del covid questo per dare modo alla gente che era rimasta in lockdown di ripartire no di sopravvivere ma poi è stata continuata l'amministrazione biden oltre quello che era legittimamente pensabile avesse senso fare vediamo agli stati uniti un'inflazione incredibile per esempio c'è una notissima catena di negozi che si chiama dollar 3 dove ogni oggetto da 40 anni costa un dollaro ok da una settimana ogni oggetto costa un dollaro e 25 quindi improvvisamente c'è stato un salto del 25 per cento nel costo dei prodotti dollar 3 sulla benzina abbiamo visto un aumento che va dal 40 50 per cento dall'inizio dell'anno e in generale insomma al di là di quelli che sono i dati ufficiali direi che l'inflazione intorno al 20 25 per cento inflazione reale se poi guardiamo 25 per cento l'inflazione reale se vai a vedere i presti delle cose è quello no poi dopo ci sono i vari indicatori truccati il dato ufficiale che dove sia 9 per cento ma noi sappiamo bene che dati ufficiali non nessuna nessun confronto anche perché nel momento in cui la benzina costa il 50 per cento in più non puoi avere solo un 9 per azione ok quindi gli americani stanno rendendo conto che tutto costa di più a partire dagli affitti per poi proseguire con le bollette della luce per poi continuare con la spesa e questo è l'indicatore migliore che uno possa avere del fatto che la casa bianca non sta funzionando quindi l'idea stessa di iniettare altri 2000 che poi potevano diventare 1800 potevano diventare 1700 miliardi nel sistema in una serie di progetti che in realtà di infrastruttura perché questa legge si chiama build back better perché dovrebbe essere una legge infrastrutturale ma di spese infrastrutturali ne aveva soltanto 9 per cento il resto era tutto indicato regalie ai vari amici degli amici e parenti degli amici dei parenti avrebbe semplicemente fatto esplodere la l'inflazione in un anno che si affaccia dove si si affaccia verso una rielezione un periodo di rielezione quindi è ovvio che sono diversi sia i parlamentari che i senatori democratici quelli che sono più diciamo di centro centristi più moderati che vedono con poca con una prospettiva decisamente poco allegra la possibile riconferma nelle elezioni di medio termine 2022 quindi john manchin ha espresso un po la preoccupazione di queste varie voci che non vogliono emergere personalmente perché sono preferiscono mandare avanti lui che comunque ha delle motivazioni credibili di un certo in un certo tipo perché viene da uno stato che è uno stato prevalentemente orientato verso i repubblicani e quindi ha senso che lui difenda una posizione più centrale e anche perché comunque ha una certa anzianità un certo rispetto all'interno dei del partito democratico e anche perché comunque lui ha sollevato il problema già da un po di tempo nel senso che ci sono stati settimane settimane di negoziati dove hanno cercato di coinvolgerlo e di convincerlo senza riuscirci di fatto però questo voto negativo di john manchin se non verrà recuperato e non sembra che venga recuperato stabilisce definisce la la morte del progetto più grosso progetto per cui joe biden è stato eletto seppure consideriamo inoltre che già dall'inizio dell'anno prossimo ha dichiarato lui che riprenderà i pagamenti per i prestiti scolastici ossia negli stati uniti molti studenti universitari fanno debiti per poter andare all'università che vengono in questo caso erogati direttamente allo stato comunque garantiti allo stato questi prestiti poi vengono ripagati in una vita perché sono cifre spesso iperboliche e lui aveva promesso che avrebbe cancellato questi prestiti o sospeso il pagamento a tempo indeterminato invece li riprende a gennaio quindi anche la la componente di elettorato giovane che aveva aderito a questa regalia in buona sostanza perché poi regalia era si trova improvvisamente in difficoltà anche perché dice scusa tu vuoi far approvare 1700 1800 miliardi di dollari per i tuoi amici e non hai soldi a questo punto che sono decisamente molto meno per coprire i nostri debiti che possono cambiare la qualità di vita perché è ovvio che quando uno esce dall'università con 200 250 mila dollari di debiti prima di riuscire a uscirne arriva arriva parecchio avanti nella vita e finisce per non per non potersi comprare casa non poter mettere su famiglia non pianificare proprio la sua vita personale alla fine esatto quindi noi abbiamo oggi che joe biden ha un percentuale di approvazione del 41 per cento era partito dal 51 per cento a gennaio quindi ha perso 10 punti percentuali cammin facendo un'altra indagine fatta di recente da fox news indica che 70 per cento americani sono totalmente insoddisfatti della situazione quindi in realtà la sua percentuale approvazione oscilla tra il 30 e il 40 per cento che è bassissima veramente poi a distanza di un anno perché dopo a distanza di un anno sei ancora più o meno in luna di miele no teoricamente con con l'elettorato col paese dovresti esserlo insomma infatti infatti e ormai ormai si vede ripetere anche su diversi testate o mainstream orientate a sinistra che joe biden non verrà riproposto alla fine dei quattro anni quindi cercheranno un altro candidato lui ha detto che si riproporrà però a parte il problema anche dell'età e della salute e tutto il resto rimane il fatto che ormai decisamente poco popolare e il suo vice è ancora più impopolare perché adesso infatti ci arrivi alla kamala harris siamo intorno al 21 per cento che è un livello storicamente visto solo in un caso un indice simile nel caso di dick cheney dopo l'inizio della guerra in iraq quando che lui aveva sponsorizzato organizzato e fatto partire vicepresidente di george push junior quando si scoprì che le armi di distruzione di massa non c'erano quindi quando la gente capì che avevano mentito ok poi gli americani senti roberto gli americani mentre gli italiani diciamo accettano in qualche modo no di essere ingannati gli americani quando si rendono conto di questo non c'è più niente da fare no infatti infatti e kamala harris in effetti ha brillato per la sua assenza o per la sua incompetenza e si parla di faida interna e continuano a emergere confidenti informazioni confidenziali interna casa bianca di uomini dell'entourage di biden che dicono kamala harris è insopportabile non non è in grado di fare il suo lavoro eccetera eccetera quindi si capisce che c'è il desiderio da parte di biden di sostituire kamala harris quando si pensava invece che sarebbe stata kamala harris a sostituire biden e il partito democratico ci sta ragionando sopra sembra che vogliano proporre che cerchino di far dimettere uno dei giudici della corte suprema per mettere lei alla corte suprema e quindi sostituirla con qualcun altro che potrebbe essere magari pitt budigiege l'attuale ministro dei trasporti che anche quello sarebbe una barzelletta perché non è più popolare di lei quindi siamo in una situazione decisamente di caos se vogliamo usare un nome più appropriato ecco di caos e se trovi che il lavoro che il vaso di pandora sta facendo da tre anni a questa parte sia utile e importante per la tua informazione e meritiamo il tuo aiuto allora sostienici con la tua donazione ti ricordo che il nostro canale è demonetizzato infatti da qualche mese non vedi più quella pubblicità che probabilmente ti dava fastidio ma che a noi garantiva un'entrata economica fondamentale ora l'esistenza e la crescita del vaso di pandora dipendono da te e trovi qui sotto in descrizione il link per la tua donazione e ritorniamo a noi roberto quindi al primo giro di boa perché biden si è insediato è stato eletto diciamo un anno fa al primo giro di boa e già ne ha fa ne ha fa ne ha fa ne ha fa sì anche perché è cominciato tutto con la debacle in afghanistan il 15 d'agosto beh direi direi che allora lui si è insediato già con una legittimazione molto molto relativa no perché il discorso dei brogli eccetera non è mai stato chiarito però diciamo è una cosa che non si è provata alla fine ma che è realisticamente avvenuta quindi lui è arrivato già abbastanza delegittimato diciamo a insediarsi in denaro diciamo c'era sicuramente un'ombra sulla sua presidenza su questo non c'è dubbio e le mosse che ha intrapreso non hanno certo favorito l'accettazione da parte dell'elettorato di trump di biden come presidente anche perché ha immediatamente cercato di definire tutti gli elettori di trump come dei terroristi interni ha cercato di intraprendere una serie di azioni che erano assurde e che sono puntualmente assurde che hanno comunque inimicato creato divisione all'interno degli stati uniti però il caso della virginia secondo me molto significativo perché dimostra come i due perché poi sono molti di più non sono semplicemente democratici repubblicani sono anche gli indipendenti sono tante sfumature di elettorato negli stati uniti comunque gruppi anche opposti si sono uniti su interessi comuni che sono quelli della istruzione ci sono grossi problemi nelle scuole pubbliche che sono quelli degli obblighi vaccinali soprattutto per i bambini gli obblighi delle maschere in alcuni stati da usare nelle scuole quindi in realtà tutto il discorso di covid che tra l'altro lui aveva cavalcato perché l'intero l'intera vittoria di biden è basata sul covid su questo non c'è dubbio nel senso come è stata di contestualmente come è stata la sconfitta dovuta al covid di trump esatto perché avevano tutti i giorni facevano il bollettino dei morti con trump e trump era l'uomo che aveva prodotto il disastro del covid quando poi sappiamo benissimo che una grande parte della responsabilità era dovuta proprio a Anthony Fauci che poi è un uomo di biden oggi con la sua gestione di quella che era la gestione dell'epidemia ma rimane il fatto che l'emergenza covid favorì in periodo elettorale l'uso del voto per posta il procrastino delle date di chiusura dei voti quindi oltre le scadenze normali e tutto quello ha permesso che succedesse quello che abbiamo visto oggi abbiamo alla fine del 2021 molti più morti di covid di quelli che sono stati nel 2020 nonostante ci siano tre vaccini nonostante ci siano una serie anche di prodotti terapeutici nonostante che appunto Biden dovesse essere l'uomo che ci portava fuori dal covid quindi è un disastro su tutti tutti i sensi ossia non i conti non tornano l'unico stato che è stato accusato in costanza di essere la pecora nera nella gestione del covid che è la florida è quello che i numeri migliori quindi abbiamo una situazione dove Biden al fine dell'anno ha disatteso le promesse nei confronti dei giovani elettori che speravano di poter eliminare i debiti scolastici e invece dovranno continuare a pagarli a disatteso le attese di coloro che speravano di uscire dall'emergenza covid visto che almeno i nove stati a gestione democratica del partito democratico già si dice che uno viene confermato l'uso l'obbligo delle maschere all'interno anche per i vaccinati si parla già di nuovi lockdown si impongono appunto obblighi vaccinali a tutto spiano quindi non puoi lavorare in california o nella città di new york se non hai fatto almeno due vaccini almeno due dosi ma ormai si parla già della terza e poi ci sarà la quarta visto che c'è omicron e in generale quindi in tutti questi stati si vive in modo sempre più difficile e c'è un flusso ormai inarrestabile di gente che si sta spostando e che sta andando in texas sta andando in tennessee sta andando in florida stando in altri posti dove invece tutte queste limitazioni non ci sono perché sono vietate c'è qui c'è l'opposto in florida è vietato imporre il vaccino è vietato imporre le mascherine è vietato imporre il social distancing è vietato imporre il lockdown per legge dello stato quindi c'è un flusso terribile per esempio la stessa disney ha annunciato che trasferirà 2000 persone dalla california in florida ci sono c'è una c'è una trasformazione di quella che la struttura anche economica e la gente alla fine fa i conti con le proprie tasche se in california oggi paghi 5 dollari la benzina quando l'anno scorso costava 2 dollari 10 centesimi in florida e oggi ne costa 3 dollari e 4 se non sbaglio anche perché il governatore della florida ha rinunciato a tutte le tasse sulla benzina in modo da tenere il prezzo tutte le tasse statali che potevano esserci state eliminate ma tenere il prezzo basso è chiaro che facile ti trasferisci in florida paghi la metà e tra l'altro la florida non ha tutte le tasse che ci sono in california poi tra l'altro tra l'altro la popolazione americana ha abbastanza direi anzi parecchio il culto della mobilità all'interno all'interno proprio degli stati uniti non è come diciamo qui in europa in italia in particolare che si è molto stanziale lì ci si muove se si vede l'opportunità che può essere un miglioramento della vita ci si ci si sposta anche di migliaia di chilometri no si si è parte della cultura stessa favorita dal fatto che c'è un'economia uniforme quindi se tu vieni dalla california e arrivi in florida usi la stessa valuta e questo sarebbe anche per europa però non hai bisogno di cambiare i documenti mantiene i tuoi documenti personali puoi tenere anche il telefono e parli la stessa lingua quindi è sicuramente un vantaggio però per esempio appunto la florida perché la florida l'avanguardia in questo quindi per quello che la menziono ma ci sono altri stati che la stanno imitando ha proposto una serie di incentivi 5 mila dollari ad esempio per tutti i poliziotti che lasciano gli stati dove non vogliono vaccinarsi e vogliono trasferirsi in florida in questo modo copre le spese di trasloco copre le spese di quelle che sono le spese iniziali per farsi riconoscere come poliziotti in florida e oggi la florida ha l'organico di polizia più robusto in tutti gli stati uniti tant'è che esportiamo poliziotti in texas per andare a presidiare il confine con il messico il texas ha ripreso a proprie spese a costruire il famoso muro sul confine col mexico nelle parti che non state completate da da trump perché non era fatto in tempo e che hanno state bloccate da biden così anche loro presto avranno un muro completo e potranno incominciare a bloccare il flusso di immigrati noi sappiamo che la casa bianca ha organizzato dei voli clandestini in buona sostanza di immigrati legali dal texas che vengono trasportati in florida de santis ha chiesto di approvare un pacchetto di 8 milioni di dollari per prendere questi immigrati e ritrasferirli a casa di biden nello stato del delaware senti senti il vostro governatore ron de santis credo che sia goda di grandissima popolarità in florida no ma non sono in florida non sono in florida non sono in florida perché per esempio l'associazione nazionale quindi tutti gli stati uniti dei ristoratori è venuta a fare il convegno nazionale qui proprio dove abito io a clear water acclamando ron de santis come il loro salvatore perché in florida i ristoranti non hanno mai chiuso hanno messo gli schermi per un po di tempo poi li hanno tolti e quindi i ristoratori in florida sono riusciti a sopravvivere senza particolari conseguenze in altri strati in altri stati hanno dovuto semplicemente chiudere quindi siccome c'è comunque un flusso incredibile di turisti che continuano arrivare abbiamo avuto livelli di record di turisti di turisti quest'anno superiore rispetto al periodo pre covid ci sono molti ristoratori che da dal nord si trasferiscono aprono un ristorante qui e partono qui certo tante preziosissime veramente informazioni da parte tua nei tuoi nei tuoi nei nostri appuntamenti senti senti la ecco volevo un paio di considerazioni proprio in in chiusura e allora proprio riguardo a ronde santis il governatore appunto della della florida e è un papabile per le elezioni fra fra tre anni in america secondo te presidenziali dici sì sì le presidenziali chiaro chiaro scusa probabilmente no probabilmente no perché c'è una legge negli stati uniti elettorale federale che prevede che qualora sia il presidente che il vice presidente vengano dallo stesso stato ricordati che oggi trump è un cittadino della florida si è trasferito in florida l'anno scorso alla fine si l'anno scorso qualora ci siano sia il presidente che vicepresidente che vengono dallo stesso stato quello stato perde voto non può più votare nell'elezione e siccome la florida è uno degli stati più popolosi negli stati uniti perdere qui è uno swing state la florida e lo è stato lo è stato per un po di tempo adesso credo che non sia indubbiamente repubblicano e però è sicuramente lo stato che fa la differenza statisticamente chi vince in florida vince la casa bianca è sempre stato così a questo è proprio un viatico ok sì è certo che nel 2020 nel 2020 è successo di tutto quindi la florida è sicuramente perché se non sbaglio il secondo stato come popolazione negli stati uniti quindi è molto è molto importante pesa molto di conseguenza non non vedo questa questa possibilità vedo invece de santis che si sta riproponendo proprio in questi giorni come per il secondo mandato secondo termine in quanto governatore l'anno prossimo si riconfermi quindi per altri quattro anni e riesca a consolidare comunque una situazione estremamente rosea per la florida la florida nonostante abbia il livello di tasse dello stato più basso in assoluto in tutti gli stati uniti ha avuto un incremento di entrate impressionanti e ha dei surplus di bilancio che sta utilizzando a questo punto per costruire infrastrutture interne si sta proponendo come alternativa alla california per l'arrivo delle porta container da dall'estero quindi è destinata a crescere parecchio come economia quindi 2022 le elezioni in in florida la riconferma secondo te la rielezione di de santis è è abbastanza abbastanza probabile abbastanza per essere scaramantici insomma sì però diciamo sì ecco siamo tranquilli anche perché lui ha fatto tante cose e una di queste è aver aggiornato le leggi elettorali in modo che non sia possibile votare per posta eccetto in rari casi dove sia estremamente indispensabile e in più ha creato e questa è la prima volta negli stati uniti un nucleo di polizia dedicato ai brogli elettorali quindi è un corpo di polizia specializzato nei brogli che può intervenire immediatamente nel caso di segnalazione di broglio e in più ha trasformato il reato di true fraud elettorale da semplice reato amministrativo a un reato penale perciò la polizia nel momento in cui riceve segnalazioni interviene immediatamente e può arrestare la persona che poi può finire in galera questo costituisce sicuramente un grosso deterrente nei confronti dei brogli perché prima il problema dei brogli era che una volta li scopriva era troppo tardi perché la polizia normale non sapeva che farci l'fbi non se ne voleva occupare i giudici non sapevano da che parte partire e ormai era troppo tardi per cambiare il risultato se invece tu intervieni nel momento stesso in cui l'elezione in corso uno li puoi impedire e due quali se siano sviluppati e poi documentare all'istante e di conseguenza a quel punto agli elementi per poter andare davanti a un giudice quindi sicuramente credo che guardando la situazione generale in Florida sarei molto molto meravigliato che De Santis non venisse riconfermato certo e senti in per chiudere il cerchio proprio in conclusione della nostro del nostro incontro del nostro appuntamento e allora dalla descrizione che hai fatto dei vari elementi Joe Biden a questo punto sta navigando a vista no più o meno a vista credo che ormai non sa più dove sta andando perché con la fine dei BBB come si dice non sa più dove andare però ci va però ci va vanno avanti ma non sanno dove anche perché il BBB era il punto centrale dell'intera presidenza che lui stesso ha proposto a Glasgow ha proposto agli europei ha proposto in giro per il mondo quindi nel momento in cui gli Stati Uniti non sono in grado di portarlo avanti perché gli altri dovrebbero e in più a quel punto non c'è neanche motivo per cui lui sia alla presidenza nel senso al di là di cercare di imporre un obbligo vaccinale che nessuno vuole diventa sostanzialmente un punto interrogativo la sua presenza alla Casa Bianca considerando il fatto che nel frattempo appunto qualsiasi cosa che stiano facendo si sta trasformando in un fiasco in termini di opinione pubblica. chiaro e quindi l'inizio dell'anno il prima la prima parte dell'anno per Joe Biden la vedi come la vedi era nuvolosa 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 allora il problema fondamentale del Partito Democratico è che cosa fanno cioè non possono sostituirlo la Kamala Harris serve un passo indietro rispetto a Biden perché comunque Biden era considerata un probabile era già quasi magari forse pianificata una staffetta invece questa staffetta non si può realizzare non si può proprio realizzare e quindi ci sarà una specie di cercheranno di andare avanti cercheranno di riproporre il BBB in qualche maniera se ci riescono però ormai stiamo entrando nella fase elettorale nella fase 2022 sarà tutta campagna per la rielezione di diversi parlamentari e senatori che dovranno essere riconfermati e c'è una concreta possibilità probabilità che ci sia un'ondata repubblicana alla Kamala dei Deputati e potenzialmente un recupero della maggioranza al Senato questo è più è più da vedere però sicuramente la Kamala dei Deputati ci potrebbe essere un ribaltamento quindi Nancy Pelosi che tra l'altro sta comprando a casa in Florida andrebbe in pensione e ci sarebbe a quel punto una situazione dove Biden non potrebbe fare più nulla perché qualsiasi iniziativa parlamentare si sarebbe bloccata bloccata anzi potrebbe partire il famoso impeachment sempre che vogliono farlo a quel punto perciò stiamo entrando in un periodo dove si tenteranno di fare ancora qualcosa ma la grossa attenzione sarà concentrata sulla rielezione perché in queste nuove elezioni si determina se il partito democratico riesce a restare rilevante riesce ad avere una certa importanza oppure viene spazzato via e quello che stanno facendo negli stati, nei nuove stati tra cui California, New York, New Jersey i governatori va in direzione opposta perché continuano a prendere iniziative che sono altamente impopolari tant'è che c'è un flusso costante di gente che se ne va e di conseguenza lo stesso governatore del New Jersey che New Jersey è uno stato che è democratico per definizione è stato riconfermato con meno dell'1% di vantaggio quindi per un soffio non sappiamo neanche se abbia vinto davvero sì 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 a quel punto con i brogli che abbiamo visto è una percentuale che irrisoria esatto esatto quindi c'è chi dice oggi che se si ripresentasse Trump avrebbe eletto senza neanche campagna elettorale perché il tema fondamentale che ha portato allora Trump sicuramente è in viso a una certa parte della popolazione sia per il suo stile che per il suo atteggiamento che per alcune scelte criticabili che ha fatto rimane però il fatto che tutte le cose che gli sono state mosse sono state smontate dai fatti perché appunto la gestione covid di Biden è molto peggio di quella che c'era stata con Trump che perlomeno non obbligava nessuno a fare niente e che in realtà lui in quanto prima persona aveva chiesto un lockdown solo di 15 giorni poi sono stati i vari governatori che hanno proseguito la cosa tant'è che quelli che non hanno voluto farlo sono stati liberi di non farlo come in Florida che abbiamo fatto 15 giorni e basta quindi il discorso è che Biden più va avanti più si dimostra improponibile e con il fiasco in Afghanistan ha pure scontentato quelli che facevano parte quelli potrebbero essere i suoi alleati sul fronte repubblicano che volevano mandare via Trump perché volevano continuare con le loro guariciole e cose di questo tipo quindi siamo in una situazione decisamente difficile per gli Stati Uniti soprattutto economica direi perché l'anno prossimo potremo vedere un'inflazione ancora più marcata oltre addirittura a questo 20-25% che dicivi prima di inflazione reale in pratica ecco quindi eh sì perché comunque hanno iniettato una quantità di denaro incredibile la differenza rispetto al passato è che questo denaro è finito nelle tasche della gente quindi la gente poi lo ha speso e questo si traduce immediatamente in inflazione mentre prima avevano avevano stampato molto meno dollari nella crisi del 2008 2007-2008 e quindi comunque era una quantità inferiore ma in ogni caso era diluita nel tempo ed era prevalentemente rimasta nel circuito bancario quindi la gente non aveva visto nessun beneficio e di conseguenza l'economia era rimasta stagnante oggi abbiamo una situazione paradossale abbiamo molta gente che non va più a lavorare perché riceve questi assegni e di conseguenza è difficile trovare forza lavoro per esempio in Florida credo che abbiamo una carenza di 200.000 posti di lavoro o qualcosa del genere pur avendo continuando ad assumere gente e in più abbiamo un'inflazione che continua a salire e e quindi è anche una difficoltà anche di approvviginarsi di materiale perché se c'è meno gente che va a lavorare c'è meno prodotto disponibile quindi questo porta i prezzi ancora più su la stessa ho capito quindi è una situazione che credo gli stia sfuggendo dal controllo e che si tradurrà in una crisi economica più marcata l'anno prossimo nel 2022 certo chiarissimo chiarissimo Roberto direi che hai fornito una panoramica molto molto chiara e molto dettagliata io direi che possiamo darci appuntamento a gennaio per il nostro nostro incontro mensile ma se nel frattempo dovesse succedere qualcosa di particolare io so che posso contare sul tuo sul tuo apporto nel frattempo quindi guarda noi ci riaggiorniamo a gennaio intanto ti ti ringrazio ti saluto ti auguro buone buone festività e noi ci ritroviamo con grazie anche a te grazie grazie a tutti